Tentano di far saltare il post a mat di via Tanzarella 3 ad Ostuni, ma gli agenti del commissariato di pubblica sicurezza sventano il corpo costringendoli alla fuga, ritrovandoli qualche minuto dopo e perdendoli a seguito di un intenso inseguimento perché lanciano chioli a tre punti sulla strada. E' la dinamica di quanto accaduto questa notte 23 gennaio 2016 intorno alle 2.45 nel cuore della città bianca di intervenire tre pattuglie diverse nel territorio nella ricerca di responsabili con 10 uomini in tutto. L'intervento della polizia è partito allo scattare dell'allarme. Pochi minuti dopo gli agenti sono arrivati sul posto e hanno notato che era stato attuato un tentativo di incendio allo sportello per causarne lo scoppio e la conseguente razzia delle banconote. Durante il sopralluogo i poliziotti hanno notato anche una infrazione degli uffici. Evidentemente i responsabili del colpo avendo sentito la polizia sono fuggiti via. Una seconda pattuglia in auto avvertita dell'accaduto ha iniziato a perlustrare la zona per provare ad individuare i responsabili dopo che alcuni residenti nei pressi dell'ufficio avevano descritto parzialmente l'auto con la quale sarebbero fuggiti i malviventi responsabili del colpo. Raggiunta specchiolla Marina di Canovigno la pattuglia ha incrociato un'alfa Giulietta alla quale gli agenti hanno intimato l'alt. L'auto però non si è fermata e ne è nato così un inseguimento per diversi chilometri che è proseguito sulla statale 379. Gli occupanti della Giulietta vistisi braccati hanno lanciato chiodi a tre punti lungo la statale in direzione Bari che hanno finito per forare le gomme dell'auto della polizia costretta così a fermarsi e lasciare andare purtroppo i malviventi. Le indagini del commissariato sono partite per cercare un eventuale collegamento tra la Giulietta e quanto accaduto al postamat di pressi del quale è stata poi trovata una bottiglietta di liquido infiammabile. A spegnere le fiamme ancora accese all'arrivo della polizia i vigili del fuoco del distaccamento della città bianca. Colpo sventato quindi con il postamat che al momento del tentativo di effrazione conteneva circa 110.000 euro caricati alla chiusura degli uffici postali a beneficio degli utenti del fine settimana. Le indagini coinvolgeranno anche i filmati del sistema di videosorveglianza raccolta all'esterno dell'ufficio postale.